Parliamo d'amore. Lei è sposato con Rosa addirittura dal 1993. E diciamo che il vostro incontro ha saltato quei mille passaggi che noi mortali, nei quali ci dilunghiamo, quei ceni aperitivi telefonati per messaggi, perché voi vi siete praticamente la prima volta è stata su un set porno. Eravate a Cannes per un premio, una sua attrice ha dato forfait all'improvviso. Lei ha proposto Rosa, non vi eravate dati neanche un bacetto, quindi la vostra prima volta è stata sul set. Adesso con queste premesse romantiche non potevano durare, no? L'unica cosa che mi ricordo di Rosa la prima volta è che quando mi sono abbassati i pantaloni, dagli occhi su ha fatto così, oh madonna. E questo è da lì in poi, che era amore. Dopo sei mesi di matrimonio, sua moglie le ha detto possiamo anche farlo in dieci posizioni diverse, ma mi pare una seduta di fitness, io mi annoio. Beh, possiamo dire che almeno a casa non la fanno sentire una rock star. No. Devo dire che mia moglie mi ha insegnato che avevo preso una certa meccanicità e portavo il lavoro a casa sempre. Eh, mai farlo, mai farlo. Eh, mai farlo. E a un certo punto mi ha detto basta, basta. E io ho detto... Hai ragione. Mi ha insegnato qualcosa di importante. Comunque il sentimento, lo diceva lei, è scattato subito. Però conoscersi su un set porno, diciamo, è un'altra cosa. Come ha fatto poi, diciamo, a stabilire un rapporto vero di fiducia? Cioè, che patto c'è stato tra voi dall'inizio? No, allora, la prima volta con Rosa è andata così. Andiamo in America insieme e ho visto che lei aveva difficoltà, soprattutto con le americane che strillano, anche se le tocchi con un dito. Yes, 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 yes. strillano e lei, l'ho vista, che si era un po' isolata. Sì. Quando l'ho trovata isolata, le ho detto piccola, ti stai facendo male, non funziona, l'ho rimessa su un aereo e l'ho rimandata a casa. E poi da lì, ripensamenti, telefonate, piangeva, io sentivo la mancanza di lei e lei mi dice al telefono, dammi la possibilità, fammi un figlio e capirai quanto ti voglio bere. E da lì abbiamo fatto il figlio ed è nata una storia pazzesca. Lei nel 2004 abbandona per la seconda volta il porno. Dice per viversi in modo più autentico, più puro il rapporto con Rosa. Però non ce la fa e racconta sono andato con più di mille prostitute per strada perché ero pazzo, mia moglie è così carina, ma mi mancava la varietà. Quindi lei in qualche modo è condannato alla varietà o viceversa, diciamo, se non è il porno è il tradimento? Io decido di smettere e tutto un tratto la truccatrice, stiamo lì, stiamo facendo sto film, i ragazzi a Praga, ma io non giro più, ho smesso e lei mi, insomma, finisce cena, amore, ciao, buonanotte, do un bacione ai bambini, vado su in stanza e lei sull'ascensore mi fa capire che i ragazzi da Rocco, la truccatrice, vuole te, vuole te, vuole te, perché gli faceva voglio, sarà più dimenticabile. E mi succede che mi metto in ginocchio e parte, e mi suona il telefono l'altro, c'erano due, e quando rispondo, no, quando non rispondo, vedo la casa, a un certo punto mi giro e dico, cazzo. Cioè sua moglie vi ha sentito? No, c'era la voce di mia moglie che mi dice, sì, si, diverti, va bene, buonanotte. E da lì io ho passato, da lì in poi è stato terribile, perché sono stato due mesi, torno a casa, ho pensato delle valigie fuori di casa, mia moglie invece era lì, dolce, carina, però era graciale, era cambiata, aveva perso la fiducia in me. È stano. Al che, al che, io gli ho detto, no, no, non era ancora arrivato il problema grave, il peggio. Però io gli ho detto, dopo due mesi, riavvicinandomi, volendo fare l'amore, gli ho detto, se vogliamo divorziare per una, non ho fatto niente, so, per fare un preliminare, ok, stanno facendo un preliminare, se vogliamo divorziare per questo, lei mi fa, sì, perché t'ho fermato, se no non ti saresti fermato. E io gli dico, allora, cerchiamo un motivo vero, almeno mille prostitute, in un anno, mattina, pomeriggio e sera, ti bastano, e lì lei, mi ricordo, seduta, mi ha detto, tu hai bisogno di aiuto, tu non stai bene. e da lì in poi, il nostro rapporto, da quel momento, in cui noi due ci siamo condivisi, sta problematica, io ho finito le mille prostitute, e non solo prostitute, c'era di tutto di più, quello che la dipendenza ti dà, esci, vedi, donne, uomini, trans, tutto, ed è qui che ti dico, che è stata pesante, 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 al quale, poi Rosa, mi ha aiutato. Qual è il punto più basso, che lei, ha capito di aver toccato, per questa sua dipendenza, qual è l'episodio, che le ha fatto capire, che stava proprio male? Unico, i bambini, quando mi dicevano, papà, giochiamo, 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 e io facevo, papà deve uscire adesso, devo uscire, ma arrivo, arrivo, tutti i giorni, tutti i giorni, adesso arrivo, e poi praticamente, tornavo la sera tardi, loro... Quanti rapporti doveva avere, in un giorno, diciamo, per sentirsi appagato, non sto, io andavo dal medico, a fare le visite urologiche, che andavo a abbassare i pantaloni, e veniva su, cioè dicevo no, facevo al medico, dottore, mi dispiace, e lui faceva no, no, non si preoccupi, succede, non c'ho, e veniva su da solo, sempre c'era, perché noi, siamo abituati, meccanicamente poi, ma non è il fatto che io lo faccio. dire, cioè lei non ha pensato, appunto, che doveva, in qualche modo, ricorrere a un aiuto, gli ha detto Rosa, no? Lei stava male, in quel periodo, quando vedeva... Sono due problemi, vado con un psicologo, e dice Rocco, che da adesso, tu vai, ti blocchi, cioè come fai a stare lontano, sto lontano dal porno, è il mio lavoro, non è solo la mia vita, cioè io campo di quello. Lei ha detto, quando questa voglia mi assare, nella sua forma più violenta, arrivo persino a pensare, che vorrei castrarmi, per mettere fine al problema, ma è proprio a quel punto, che chiedo aiuto a Dio, tramite l'intercessione di mia madre. Cosa chiede lei, cosa chiedeva in quei momenti, a Dio o a sua madre? Di farmi morire, semplicemente. Davvero? Quanto è durato questo periodo, così drammatico per lei? Tanto. Adesso non è fuori? O ci combatte? No, no, è stanza fuori. Come lo sta superando? Diciamo, anche con l'aiuto dei farmaci, oltre che della terapia? No, no, con mia moglie. No, no, completamente fuori, ho paura che non ci sarò mai, però devo cercare di dirigere le mie energie, affinché riesco, però devo dire che sono migliorato molto. Cioè? Questo lo posso dire. Che significa? Riesco a gestire la mia personalità, a non essere troppo debole, semplicemente così. Senta, lei una volta ha detto questa dipendenza, lei ha definito questa dipendenza una sorta di diavolo, mi manda a volte fuori di testa, fino a farmi diventare quasi aggressivo, c'è stata una volta in cui ho avuto paura di non sapermi fermare, le è capitato? Quando si parla di diavolo, secondo me oggi, oggi, il diavolo è il sesso, ma non inteso come il diavolo, come la sessualità che mi ha preso. Io avevo 12 anni e ho rivisto solo nelle donne quello che ho avuto io, non ho mai conosciuto un ragazzo che a 12 anni aveva questa sessualità qui. E devo dire che oggi l'analizzo proprio dal punto di vista della sessualità. Secondo me tutto è legato a questa sessualità. Senta, e per quello che riguarda i rapporti omosessuali, che tipo di rapporti ha avuto? Non mi sono fatto mancare nulla, semplicemente andavo, senza anima, andavo, andavo, uscivo, non trovavo una prostituta, trovavo il prostituto, non trovavo... Era uguale, era tutto uguale. Tutto uguale, sì.